Al Picchio Village Lascoli sfida il Bari nel match valevole per la 28esima e terz'ultima giornata del girone B del campionato Primavera 2. Il tecnico bianconero Ledesma punta su Sciammarella in porta, poi Cauci, Cozzoli e Barrotta, Gaffuri, Piermarini e Gaspari. Bando, Cola Iacomo, Lo Scalzo e Del Moro. Di fronte i biancorossi allenati da Paolo Lanera che ha sostituito Federico Giampaolo promosso in prima squadra. In avvio il cross di Cozzoli, Cola Iacomo non controlla bene la sfera in area piccola. Qui errore in fase di disimpegno dell'Ascoli, prova ad approfittarne Patierno il suo tocco col mancino, sfiora il palo. Settimo minuto, Gaspari sulla destra, il pallone al centro, non ci arriva Cola Iacomo, presa sicura di Alloi, estremo difensore del Bari, classe 2006. Ancora il biancorossi con Patierno, poi Akpaciucu non trova lo specchio rapporta da ottima posizione. L'Ascoli con Bando, la percussione, poi il destro della lunetta, presa sicura di Alloi. Cozzoli sulla corsia sinistra, cross al centro, non ci arrivano Del Moro e Cola Iacomo. Mezz'ora, punizione per il Bari, c'è questo spunto da parte di Natuzzi, il suo cross, Akpà di testa, fallisce, un gol clamoroso. Minuto 43, ripartenza dei biancorossi, Leone allarga per Patierno, il suo destro è vincente, la sblocca la squadra di Mister, la nera. Nel recupero del primo tempo, schema da calcio piazzato per i biancorossi, al tiro va Lombardo, respinge Sciammarella, che poi è bravissimo anche sul tentativo di Tappin, di Akpaciucu. All'intervallo entrano Lattanzi e Ciccanti al posto di Barrotta e Gaspari nelle file bianconere. Ciccanti dalla destra, il suo traversone, arriva Cozzoli, ottima parata di Alloi. Contropiede del Bari, con Akpaciucu, arriva in aria, poi il suo destro, Sciammarella, non si fa sorprendere. Sesto minuto della ripresa, c'è questo traversone, poi il solito Cozzoli, il suo assist, la deviazione vincente di Cola Iacomo, la pareggia, il picchio. Tutto torna in parità. Partita vibrante, sempre Cozzoli, attivissimo. La puntata per Del Moro, ottima parata da parte di Alloi. Poi viene anticipato Cola Iacomo. Minuto undici, c'è questo corner, ancora Cozzoli sfiora la traversa. C'è una deviazione anche del portiere Alloi. Ciccanti per Bando, siamo al quarto d'ora, il suo diagonale col destro, deviato out da Alloi. Dalla bandierina, ancora Cozzoli, pallone al centro. Poi c'è Gaffuri, l'imbucata per Bando. Pallone al centro, arriva Del Moro e non può sbagliare. Terzo centro in campionato per Luca Del Moro. L'Ascoli mette la freccia. Due a uno per i bianconeri al picchio village, ma il Bari non ci sta. E dagli sviluppi di un corner pareggia i conti con Akpachucu. Attaccante che già è sordito in prima squadra, con due presenze e un gol a Pisa. Minuto 23, ancora Akpach in aria, respinge Sciammarella. Si avventa sul pallone, buonzante, va in gol. Tre a due per il Bari. Partita rocambolesca al picchio village. Ciccanti per la reazione del picchio. Poi lo scalzo per Cola Iacomo, diagonale, debole centrale. Bando, alza la testa. Poi servizio sulla sinistra per il solito Cozzoli. Il suo cross, batti e ribatti in aria piccola. Arriva lattanzi, la conclusione è troppo alta. Akpachucu fa valere il suo fisico. Arriva in aria, poi il destro Sciammarella c'è. Ultimi assalti dei bianconeri. Ci prova Piermarini, poi batti e ribatti. Si salva Loi, poi allontana Tatullo. Ancora Akpach, nel recupero per Leone. Arriva in aria, poi il sinistro. Sciammarella si salva in corner. Ultimo attacco dell'Ascoli con Gaffuri. Dentro per Gorica. Sinistro che termina out. Undicesima sconfitta in campionato per l'Ascoli. Che resta a quota 43 punti in classifica. In vista del prossimo match che sarà in programma. Sul campo del Napoli. Finna con l'ad preacher.